buongiorno oggi anche l'antennina mi hanno un culato buongiorno un cazzo ma che ci farà la gente con l'antenna io boh ma 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 tu che ne pensi come si può chiamare sto orso scrivetemi un po come lo posso chiamare sto orsetto bello goffredo boh sono in attesa del tagliando e sono in attesa con il grande mirco no non lo dico qui alla parisi dacare guardate come lavora ragazzi alla grana guarda quanto si è ordinato bravo bravo aspetta con me aspetta con me voi non lo sapete ma da quest'ufficio qua è partita tutta la macchina a carletto life car che ancora ci darà delle soddisfazioni stiamo un attimo abbiamo avuto degli intoppi progetti però ci stiamo lavorando siamo sempre carichi si carichi e qui mentre parlava venuta fuori sta macchina e che macchina ormai è un istituzione un po grigio mi ha rubato l'antenna però ho goduto ho goduto grazie a sto signore qua andate a vedere la prossima storia ho giocato insieme a lui è andato a vedere il profilo abbiamo l'onore oggi di avere un cardinale a pranzo un grosso un grosso un grosso cardinale e ve lo presentiamo subito ecco a voi il il cardinale faustino de faustinis della diocese di cucurano ma guarda che è un cardinale saluta tutti ciao compratevi a rapamo grazie sciuri com'è va bene tutto a posto numero uno numero uno ah finalmente ritorno su una macchina seria voglio vedere quanto avete mangiato ma soprattutto vedo due bottiglie di vino vuote siete in quattro cioè datevi una regolata eh che fanno c'è un briacamo dal momento che volevi sapere la situazione vinicola questa è finita e questa è metà quindi il signor spugna sta dando via sotto il signor spugnella a isalia signor spugnella no spugnella a isalia spugnella che ha detto che è a stemio e invece è poco invece non beve poco non è a stemio salutateci i vostri ciao 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 saluta 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 hai visto la partita ma mica ne ha detto niente ne ha detto niente eh è festeggiato team allora allora abbiamo anche una visita speciale l'ispettore dell'alimentazione controllo antiscroccaggio da napoli ma tu sei con me? ma tu sei sempre con me? e sempre forza napoli e la parola e dove è l'arri? sì marioli marioli siete in branca dei marioli ma che marioli che marioli? ma è il momento perché vinto come sarebbe a dire? ciao quell'allenatore una pipa siamo in sbagliata per il primo fratello Ha dato il giocatore buono, ma mai lo facciamo a me ci vediamo Ma io l'ho fatto apposta Ciao, grazie della macchina Guardate lo zio Minchio Come saluta, ciao, grazie Ciao Dai, pronto Dai, fa il tonto, no? Buffone, to, mettete questo Sinistro, sinistro, sinistro Sinistro, sinistro Sinistro, sinistro, sinistro I calci no, è solo il sinistro Sinistro, sinistro Ma che guardia c'è, arriva Leva sto punto il levatoio Sinistro, sinistro, sinistro I calci no, solo pugnetti così No, no Però non va bene, scusa Mi hai fatto un casto Dai, stai a sedere E' zitto Tu su grus e zitto Zitto, zitto, zitto Un bloc Finest Finest sempre così Mamma mia Guardate che bello ragazzi Tu, le avete, dai Della magia Della magia Ti è piaciuta? Eh? Non mi ricordavo il finale Oh Ma questo lo vende il cappello Ma questo lo vende il cappello?